1 dicembre Il figliolo dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20-28 Arrendersi a Cristo Dobbiamo arrenderci a Cristo, affinché il grande scopo della sua venuta in questo mondo possa riempire e permeare tutta la nostra vita. Il suo esempio mostra che dobbiamo vivere con l'obiettivo di essere di benedizione per gli altri. È questa la sua volontà, il suo scopo per noi. È questo che la sua potenza attende di fare in nostro favore. È questa, ancora, la richiesta che ci rivolge il suo grande amore. Non borbottare un misero assenso di fronte a questa verità. Non pensare a essa e non pregare per essa senza la minima convinzione di essere esaudito. Non sprecare tempo in vehementi decisioni in vista di un impegno a essere buono e utile. Inginocchiati alla vista di Cristo crucifisso e ricorda a te stesso il suo grande scopo e il profondo amore che dimostrò per gli uomini immeritevoli. Lascia che il tuo essere avverta tutta la forza dell'appello che viene da quelle mani forate, da quei piedi sanguinanti, dal terribile vituperio e dall'agonia del nostro caro Signore. Una volta vinto e costretto da tutto questo, arrenditi a Lui in vista del suo grande scopo. Prendi Gesù come tuo modello nell'accingerti a questa vita di servizio alla gloria di Dio. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.